Paolo, vai ci fai! Cioè che cosa? Sempre pisciano, fatti pisciate cimici, stai! Che cazzo lo stai? Vieni! Vabbia siii! Capito? Alle vacanze del Natale ci stai, si. Stiamo a fare un bordello da qualche parte. Ci vediamo, ciao! E vabbè, come seconda punta! Gran! Io sono venuto tra sordi, ripeto di due. Uno, buona! La prestazione dei bianconi! Attendo queste tesone erano eh! Oh i occhi! Mi dico Max! Sì! Era! Guarda che culo! Guarda che culo! Destra! Vai Mattei! Bravissimo! No! 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 Grazie a tutti.